Questa è una seconda legale, oggi siamo qui per la decisione di WWE Royal Rumble. Nel 2024 non c'è match nei kick-off, partiamo con il primo match che è il Women's Royal Rumble match. Solida Royal Rumble match con molte sue prezzi sin dall'inizio, con il ritorno di Naomi dopo più di due anni e l'arrivo One Night Only, solo per la Royal Rumble, della campionessa Tine e i filmi di over Jordan Grace. Per proseguire però con la parte centrale troppo, troppo statica in attesa della terza parte con l'arrivo di Nia Jax che fa piazza pulita con ben 8 eliminazioni totali, l'arrivo di Becky Lynch che però fa molto molto poco con una sola eliminazione, l'arrivo di superstar da NXT come Roxanne Perth, Tiffany Stratton, ma soprattutto finalmente il debutto di JT Cargill che elimina senza troppa fatica Nia Jax da sola, regalando un finale bellissimo e molto teso con Bayley, Liv Morgan, JT Cargill, Bianca Belair, Tiffany Stratton e Naomi che eseguono una mossa dietro l'altra creando uno, secondo me, dei più belli finali di una Rumble femminile di sempre. Deludono molto, secondo me, Becky Lynch e Bianca Belair con una sola eliminazione a testa, l'iron women, cioè quella che è durata di più, è Bayley con un'ora e tre minuti, tra l'altro Bayley adesso detiene ufficialmente la record di permanenza in una Rumble femminile, e tra l'altro Naomi, che è durata un'ora e due minuti e diciotto secondi, è la seconda come record di permanenza in una Rumble, quindi è stato già spazzato via il record di Rhea Ripley di un'ora e un minuto dell'anno scorso, è già stato spazzato due volte in uno solo a Rumble, pensate un po'. Maggior numero di eliminazioni, abbiamo Nia Jax con otto eliminazioni, Naomi solo due eliminazioni, perché dico questo? Perché se Naomi è durata un'ora e due minuti, però ha fatto solo due eliminazioni, mi aspettavo di più, per esempio Bayley è durata un'ora e tre minuti, ma ha fatto sette eliminazioni, e tra l'altro match vinto da Bayley in appunto un'ora e tre minuti, e tre secondi, match come se ti dava un sette e mezzo, quello era il discorso, cioè Naomi è durata tanto, c'è durata solo un minuto in meno di Bayley, ma ha fatto meno della metà delle sue eliminazioni, Bayley si è fatta vedere molto all'interno della Rumble, mi è piaciuto anche il gioco della Damage Control, che non ha propriamente, Bayley ha aiutato la Damage Control, ma la Damage Control non è che ha proprio aiutato Bayley, e questo serve ovviamente per preparare il match tra Bayley e io Sky, Bayley adesso sicuramente nel punto di The Droid Smackdown dirà che vorrà affrontare Rhea Ripley, ma sappiamo come andrà a finire la storia, comunque molto molto bene questa Rumble, a me è piaciuta veramente tanto, c'è il problema della parte centrale che non è successo veramente niente nella parte centrale, poco da menzionare, anche il livello di entrate, se uno guarda la prima decina, la seconda decina, la terza decina, sicuramente la seconda decina è nettamente, nettamente più debole, i due nomi più importanti della seconda decina sono Nia Jax, che è ok, e Becky Lynch, Becky Lynch è veramente quasi inesistente, stanno ben tra l'altro la sua unica eliminazione è Chelsea Green, che si è quasi eliminata da sola. Secondo me ci abbiamo il Fatal 4-Way match per il titolo di Roma Reigns, Fatal 4-Way di pregevole fattura, secondo me, con tutti e quattro i datatori abbastanza coinvolti, che mostrano il loro repertorio, anche se mai, mai, mai con combinazioni a più datatori, ma sempre con mosse uno su uno, ma comunque sempre con un'ottima pulizione nelle mosse, buoni e credibili tutti i falsifinali alle rispettive finisher dei tre avversari del Tribal Chief, che anche qui, anche in questo match qua, ricorre all'aiutino da casa, anzi, all'aiutino allo spogliatoio, con l'arrivo del solito, solito Solskjaer, che lo salva da un match, che gli ha visto eseguire solo una spia e un Superman Punch, e subire per tutto il resto del match, ma quelle due mosse gli bastano per la vittoria dell'incontro, ovviamente. Match vinto da Roma Reigns, match cominciato a dare un 7-plus, non è stato un brutto Fatal 4-Way, non lo ritengo un match insufficiente, ci mancherebbe altro, ma ci sono state tantissime belle mosse, Randy Orton che esegue tre arcaio di fila, bellissimo quello su Roma Reigns, però solo Sikoa che interviene anche in questo match qua, c'è sostanzialmente la cosa che fa ridere, senza gli aiutini Roma Reigns avrebbe perso il titolo dopo un mese, cioè il problema è che è questo che Natalia Bavini sta facendo capire, è questo il problema, ma me lo sta facendo capire da più di un anno ormai, cioè Roma Reigns senza aiuti avrebbe perso il titolo, sarebbe durato un mese il regno di Roma Reigns, non è credibile, cioè non può essere che in ogni match Roma Reigns, ma anche dato che in un Fatal 4-Way, in un Fatal 4-Way dove tu puoi stare in disparte, gli altri si menano e nel momento giusto colpisci, e non va, cioè a me sta cosa non va più giù, Roma Reigns deve, deve perdere il titolo alla resta mia 40, e tu dico, no è sicuramente perdere la resta mia 40, sì, come era sicuro che doveva perdere la resta mia 39, giusto? Speriamo che perdere la resta mia 40, perché sinceramente direi che basta. Terzo match Logan Paul che difende il titolo degli Stati Uniti contro Kevin Owens, tutti si aspettavano un bel match tra i due, infatti lo è stato, con ovviamente la mano destra di Owens al centro dell'incontro, e della strategia di Logan Paul, che oltre a mirare la mano, ci aggiunge molta esplosività ed agilità, che del resto Owens, che dopo un'ira funesta iniziale, lavorava di comeback, grazie al suo vastissimo parco mosse, veramente da togliere il fiato gli ultimi 5 minuti, con l'incredibile kick out di Owens al KO punch di Logan Paul, ma soprattutto Owens, che colpisce Logan Paul con un tiro a pugni, che era stato inizialmente dato da Austin Theory a Logan Paul, e l'arbitro ha il contro di 2,99 periodico, si accorge del tiro a pugni, e chiama la squalifica per Owens. Tutto fa presagire ad un match a stipulazione speciale in Nation Chamber, visto l'ira di Owens, che si abbatte sul malcapitato Logan Paul, che va a finire su un tavolo di commentatori. Match vinto da Logan Paul, il match ha cominciato a dare un 7 più, anche qua, sono mancate diverse mosse, tipo la Papa Paola buona prima che mi viene in mente, la Stunner la seconda che mi viene in mente, tante mosse sono mancate secondo me in questo incontro, questi sono i primi due che mi sono venuti in mente, si è puntato tutto sul finale, fa un po' ridere il fatto che in WB si sa che gli arbitri spesso non vedono cose incredibili, questa volta l'arbitro ha visto il tiro a pugni nella mano di Kevin Paul, abbattena a fancurra, comunque vabbè, adesso mi aspetto in Nation Chamber, un match, un Extreme Rules, Street Fight, qualcosa del genere. Quarto match e ultimo, Royal Rumble match maschile, ottimo Royal Rumble match, che regala molti bei scenari possibili per Western Mania, come i perfettamente pronosticati Jay e Jimmy Uso con i primi due rumori, e qui tra l'altro vi lascio l'estratto del video dei pronostici che comunque trovate qua in alto, eccolo qua. Mi aspetto che i primi due siano Jay Uso e Jimmy Uso, proprio come i primi due, visto che Jimmy Uso non era contento del suo numero, e mi aspetto questi primi due, il faccia a faccia tra i due fratelli. Poi abbiamo il ritorno di Andrade, anche questo predetto nel video delle previsioni, abbiamo avuto Caros contro Lashley, uno strepitoso Brown Breaker, che insieme a Cody Rawls è il lottatore ad aver eliminato il maggior numero di lottatori, quattro, che comunque non è tanto, il ritorno di Sammy Zane con il faccia a faccia con Drew McIntyre, e un tesissimo fatal four-way finale tra Punk, Gunther, McIntyre e Cody Rawls, concluso con un ancora più teso e lungo, direi troppo lungo, finale tra Cody Rawls e Punk, anche questo predetto nei video dei pronostici, pronostici che dopo svariati minuti porta al vincitore a sorpresa, che a sorpresa non è CM Punk, ma per il secondo anno consecutivo è Cody Rawls a vincere il Royal Rumble Match, e ovviamente nel post-match ha già scelto la Roman Reigns, match vinto appunto da Cody Rawls, match è cominciato a dare un 7,5, l'Iron Man, quello che ha trovato di più è Jey Uso, che ha trovato 50 minuti e 50, e anche questo avevo predetto nei video delle previsioni, praticamente, se uno guarda il video dei miei pronostici, che ripeto, trovate Guenaldo, nella Royal Rumble Match maschile avevo previsto tutto, tutto quello che è successo, avevo predetto nel video, e ripeto, qua lo trovate, l'unica cosa che ho sbagliato è il vincitore, ahimè. Era dalla doppietta 97-98 di Steve Austin, che non c'era un vincitore di due Royal Rumble consecutive, e quindi sono passati 26 anni dall'ultimo lotto che ha vinto due Royal Rumble consecutive. Ecco, allora, secondo me in questo Royal Rumble il finale è stato troppo lungo, cioè a un certo punto io ho detto, cioè ho urlato alla TV a CM Punk e Cody Rawls, io ho ricordato che era una Royal Rumble match, non era un uno contro uno, cioè a un certo punto si sono dimenticati che si vince eliminandolo i lottatori. Diciamo che questo match ha anche mostrato l'attuale scarsissima preparazione atletica di CM Punk, che dopo tre ginocchiate in faccia agli altri era già KO praticamente. Ma tra l'altro, per me la cosa più sconvolgente del video delle previsioni, dei pronostici, è che ho azzeccato addirittura il numero di intrati di CM Punk, eccolo qua. Gli ultimi due mi aspetto Cody Rawls e CM Punk, che credo sia abbastanza plausibile, o in alternativa CM Punk di McIntyre, ma penso più Cody Rawls e CM Punk. E secondo me CM Punk entrerà con il numero 27, me la gioco così. Sono molto contento che sia Cody Rawls, perché se lo merita di finire la sua storia, che tra l'altro questa cosa cavaica, anche molto l'onda dell'uscita del trailer del videogioco, che è Finish Your Story. Un Royal Rumble primo in event che ha avuto buoni match, cioè 2-7 e mezzo e 2-7 più, comunque molto molto valido come evento. La Rumble femminile ha avuto un bel finale, ma ha avuto una parte centrale molto scarica. e invece la Rumble maschile ha avuto un finale troppo lungo, e secondo me non ha avuto una parte centrale proprio potente. Anche perché l'entrata di, come si chiama, Pat McAfee, che è un episodio che mi è piaciuto molto 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 poco, era per rimpiazzare Brock Lesnar, perché in questa Rumble ci dovrebbe essere anche Brock Lesnar, ma all'ultimo è stato tolto per motivi legati anche alle vicissitudini recenti con Vince McMahon. E.O.N. E infatti, se uno ci fa caso, nel momento in cui sarebbe dovuto entrare Brock Lesnar ed è entrato Pat McAfee, c'era HOMOS, Baron Bear Hacker in faccia a faccia, quindi ci sarebbe stato un altro bestione. E infatti a me la parentesi Pat McAfee non è piaciuto. Anche se devi rimpiazzare Lesnar, avrei preferito venire rimpiazzato con qualcun altro. Io non ho altro da dire, sinceramente. Lo ritengo un buon, prima un'eventa, non eccelso. Si poteva fare di più, soprattutto nel Fatta Foway match maschile. Poi, per me, le due Royal Rumble match sono molto molto sufficienti. Il mio voto per Royal Rumble 2024 è sette più. Secondo me, le due lottatori che mi hanno deluso di più della Royal Rumble femminile sono, senza alcun dubbio, Bianca Ballera e Becky Lynch, quasi, quasi invisibili. E invece, i due lottatori che mi hanno deluso di più della Royal Rumble match maschile, ma onestamente vi direi Karion Kross e Bobby Lashley sono quelli che mi hanno deluso di non aspettare che facessero almeno un'eliminazione in più a testa. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo evento, quale match vi è piaciuto di più, quale non vi è piaciuto. Se siete contenti dei due vincitori della Royal Rumble, pagina Facebook, profilo Instagram, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo nella prossima puntata con il Dalle, che sfiderà Cody Rozza, resta in me, che sfiderà Roma Reins, che al mercato, mio padre al compratore. 3, 2, 1, qui lì. We got, we got, we got the power, we got, we got the power, we got, we got, we got the power.